Il regime di virtual safety car sta per terminare, bandiera verde in arrivo. Mantieni positivo il delta fino alla bandiera verde. Bandiera verde. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. 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 Abbiamo una strategia alternativa. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. A quanto pare tra poco la pista si asciugherà, sta smettendo di piovere. Ok, via libera. Virtual Safety Car attivata. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti i punti e a questa patta si spartano ora. Svilizzam khVERTRI航I. Buona voce laditiva. La perica ha Trimorio. Noi, non no i равно sono dovuti!" Dunque in dedica èbased, vada molto efficiently apposta la passata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'incidente è in pista, ma gli ufficiali non prevedono di far uscire la selfie per ora. Fa' attenzione. I commissari hanno dato l'ok per il DRS. Ok, via libera. Grazie a tutti. Grazie a tutti.